Sissimor annovera nel suo catalogo un prodotto molto particolare, il Bellacian. Il Bellacian che cos'è? È un gambero fermentato e poi pressato e abbondantemente salato. È un alimento delle zone della Nuova Zelanda, della Tailandia, Filippine, dove appunto in quelle zone viene utilizzato come alimento. È un odore che per noi può essere pestilenziale. Noi troviamo un prodotto particolarissimo che è la pasta di Bellacian. Questa pasta non è altro che un gambero fermentato, salato, ricco di amminoacidi liberi. Questo perché? Perché questi amminoacidi derivano dalla fermentazione del gambero, delle proteine del gambero, quindi la molecola viene scissa. Le carpe troveranno molto velocemente questi amminoacidi, li percepiranno, e troveranno nel Bellacian un elemento sicuro di nutrizione. Come utilizzarlo? Bisogna utilizzare negli stick grattugiati, all'interno del nostro mix grattugiato, oppure possiamo utilizzarlo dentro i metodi grattugiati. Possiamo utilizzarlo all'interno delle nostre particle, basta romperlo in pezzi, durante le emollizioni e inserirlo all'interno. Possiamo che il Bellacian è un prodotto dalla poca spesa e tanta resa, appunto perché possiamo trovare una gamma di utilizzi molto ampia, ampissima. Musica 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 Musica